Eccoci dunque con la nostra seconda parte di Malacoda. Io ringrazio per essere ancora con noi la Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Caterina Biti e la giornalista Serena Pinziani. Parlavamo del ricordarsi, siamo passati dalla cronaca a, diciamo così, l'attualità, in qualche modo l'approssimarsi della festa della donna. Parlavamo del riappropriarsi del significato della festa della donna, ma del riappropriarsene tutto l'anno. Come si fa, Biti, a ricordarselo tutto l'anno da donne? Perché soprattutto da donne ce lo dobbiamo ricordare. Beh, non è semplice come domanda, sicuramente. Come si fa? Si fa cercando di vivere nel miglior modo possibile la nostra condizione di donna nei ruoli che abbiamo, ognuno nel proprio ruolo, che può essere quello di, appunto, di istituzionale nella conduzione di un consiglio comunale, quello di una giornalista, ma può essere quello di una mamma che va a fare la spesa. Ogni donna deve mantenere coscienza di se stessa, delle proprie caratteristiche, della propria forza, ogni giorno della propria vita. Certo, gli uomini dovrebbero fare lo stesso, perché la festa delle donne non ha senso se non ci si rivolge anche all'altra metà del cielo, no? Così come si suol dire. Bisogna che anche davvero gli uomini, chi ci sta vicino, chi lavora con noi, riconosca che ci sono delle differenze, perché secondo me questo è fondamentale. Ci sono delle differenze e queste differenze non possono altro che arricchire la vita di ognuno nella relazione reciproca. Secondo me, partendo da questo, si potrebbe migliorare anche quelli che sono i rapporti e non arrivare a tutte le tensioni che spesso e volentieri vedono subire la donna. Io credo che questo sia il lavoro che ogni giorno siamo chiamati a fare. Certo, chi ha dei luoli di responsabilità, come possiamo avere noi anche in politica, deve impegnarsi in prima persona. La politica è stata un argomento per le donne difficile da affrontare per un lungo periodo, nel senso che comunque ce n'erano poche, si stanno ritagliando sempre più spazio. Quanto è difficile conciliare famiglia, politica, vita da donna, tra virgolette, comunque sia con tutte le responsabilità che hanno anche le donne. E poi insomma, donna, presidente del Consiglio Comunale di Firenze, quindi una città oggi importantissima e sotto l'occhio del mondo, insomma, in qualche modo. Quanto è complicato? Io credo che sia complicato quanto è complicato per tutti. Non voglio dire che ci siano delle parti diverse. Sicuramente c'è da focalizzare bene il fatto che con le proprie caratteristiche e quindi anche con i propri limiti le donne possono dare molto impegnandosi. Ma come possono fare gli uomini? È più complicato perché ci può essere la famiglia, ci può essere il fatto di avere delle difficoltà in quanto donna. Io sinceramente non le ho sentite. Forse sono arrivata in un momento in cui già molto era già stato fatto prima di me. Per cui adesso è piuttosto usuale trovare delle donne sindaco, delle donne presidenti di Consiglio Comunale, donne in tanti ruoli istituzionali anche importanti e di governo. Quindi forse il lavoro e questa domanda andrebbe fatta a chi mi ha preceduto. Perché probabilmente il lavoro è stato fatto allora e adesso noi possiamo ringraziare e raccogliere i frutti, insomma. Anche giornalisticamente parlando, è certo. Sicuramente noi siamo fortunate da questo punto di vista, stiamo proprio beneficiando dei frutti di chi ha lavorato prima di noi, insomma, per avere la cosiddetta parità. Devo dire che quello che si può fare noi oggi è aumentare la nostra consapevolezza. Indubbiamente, diciamocelo un'altra volta, le donne hanno una marcia in più, hanno una forza che è propria, insomma, delle donne per varie caratteristiche. Bisogna anche esserne consapevoli. Quindi questo vale appunto per chi ha ruoli di governo, ma vale anche per le persone semplici che conducono una vita normalissima, alle prese con i problemi di tutti i giorni, e che magari devono fare i conti in fondo al mese, con la spesa, con la famiglia da mandare avanti, e con il lavoro. Ecco, il lavoro è un'altra tematica che va affrontata ora come ora. L'8 marzo dovrebbe servire anche a questo. I dati che riguardano il Mugello sono abbastanza emblematici. Nel 2014, fino a settembre del 2014, su 1.400 contratti a tempo indeterminato che sono volati via per colpa della crisi, più della metà erano intestati a donne. Quindi questo penso debba far riflettere. Soprattutto se si considera il rapporto tra magari gli occupati maschili e femminili, nel senso nel mondo degli uomini e nel mondo delle donne, anche per scelte che a volte fanno le donne, per cui nel mondo del lavoro sono meno rispetto agli uomini. Quindi insomma, guardare a questa giornata, anche per attivare delle riflessioni più profonde sulle possibilità che le donne hanno in questo momento, per dare un contributo ad una società più aperta, più libera, sicuramente più consapevole. E il tutto nella vita di tutti i giorni, ripeto, scendendo un pochino anche dai piani alti per arrivare nel concreto, insomma. Oggi abbiamo parlato di festa della donna, quindi anche di parità, di consapevolezza, però spesso e volentieri quando si dice donna, quando si dice di occuparsi di donna, ci si occupa anche di un altro aspetto, che è quello della violenza di genere, che insomma forse in questa giornata, che è così, anche di festa, un po' potrebbe sembrare di stonare, però è un argomento ancora molto sentito e importante, insomma, su cui ancora c'è tanto da lavorare. Sicuramente è così, c'è moltissimo da lavorare e le cronache ce lo raccontano troppo spesso, tutti i giorni veramente troppo troppo spesso. C'è da lavorare in questo senso, molto, c'è da lavorare a livello sociale, perché sicuramente questo è un problema che riguarda molto la sfera sociale delle nostre città, io non voglio dire che ci sia un indebolimento della parte maschile, ma sicuramente c'è un rapporto, come dicevo prima, bisogna che ognuno conosca bene le differenze. Più conflittuale. È più conflittuale, forse la donna ora si sente più forte, forse perché ha raggiunto anche determinati posti, come dicevamo prima, forse l'uomo da questo si sente minacciato, io non lo so, non voglio fare della psicologia spicciola, perché non è il mio ruolo assolutamente. Credo che davvero, come dicevo prima, e di questo sono molto convinta, ognuno debba, e in questo le istituzioni devono fare molto, lavorare per riconoscere le proprie caratteristiche, la propria forza, le proprie forze, quindi uomini e donne, e da questo trarre soltanto benefici. Credo che questo sia l'unico modo, l'unica via per cercare di sminare questo conflitto che tutti i giorni monta monta e che c'è nelle vite di tutti e che poi sfocia troppo spesso nella violenza di genere. Io ricordo tra l'altro un bel modo di festeggiare la festa delle donne in Consiglio Comunale a Firenze, non mi ricordo se due o tre anni fa, ma venne invitata l'Associazione degli Uomini Maltrattanti, che è un'associazione che si occupa di uomini che hanno fatto violenza alle proprie compagne, alle proprie donne, e che però hanno detto basta, vogliamo lavorare su noi stessi. E fu un'esperienza molto interessante conoscere questa realtà, nella festa della donna, perché come dicevo prima, secondo me non si prescinde l'uno dall'altro, anche nel festeggiarci, insomma. Serena, parlavamo prima anche di iniziative, insomma ce ne sono tante e ce ne sono appunto per riacquisire questa consapevolezza. A Borgo San Lorenzo è in programma ora una a due giorni, sabato 7 e domenica 8, che non a caso si chiama Non Solo Mimose, nel senso che si parlerà di tanti argomenti in una a due giorni, che comunque è non solo per le donne, ma è per tutti. Si parlerà di donne attraverso le donne, le donne impegnate in politica, Sonia Spacchini è stata assessore alle pari opportunità, con le donne impegnate nel sociale, quindi le varie associazioni, con le donne impegnate nella cultura, che comunque è un mezzo per arrivare al cuore anche del problema della violenza, ovviamente con la prevenzione, quindi iniziative che sono rivolte anche ai giovanissimi, arrivare attraverso letture, attraverso libri, attraverso il teatro stesso, a lanciare dei piccoli messaggi, che sono appunto, come si diceva prima, quello della consapevolezza, della forza delle donne, ma anche di, come dire, radiografare un po' la situazione delle donne oggi e quindi prendere coscienza di tutto quello che è intorno alla figura della donna, nel bene e nel male. E queste, devo dire, sono solo alcune, diciamo, delle iniziative, ce ne sono un po' in tutto il Mugello, devo dire tra sabato e domenica ce ne saranno davvero tante, sia a Rufina, a Barberino, a Scarperia. Quindi, insomma, in tutti i comuni dell'area. Io sono quasi al termine, ho due domande rapide. Una, per chiudere anche questo importante argomento, alla vigilia, insomma, della festa della donna, perché tutto sommato siamo al 6 di marzo, quanto è importante, in due parole? Ma è fondamentale, l'abbiamo detto prima, è fondamentale perché queste ricorrenze, la festa di, serve per porre l'accento e per approfondire dei temi che poi vanno sviluppati durante tutti gli altri 364 giorni all'anno. Però ci vuole una giornata per fare un focus dedicato in modo da non far sì che diventi poi normale amministrazione. Ci vuole ogni tanto un punto, siamo qui. Da cui ripartire a partire. Esatto. E poi, in tema di importanti, però più squisitamente politici, in questo senso, quali sono i prossimi argomenti importanti per Firenze, per il Consiglio Comunale, per Firenze-Città? Ma noi andiamo incontro a un mese molto impegnativo in Consiglio Comunale proprio perché stiamo portando in fondo il regolamento urbanistico e quindi, diciamo, l'atto forse più importante di questi 5 anni di mandato a livello proprio di Consiglio, perché si decide come verrà costruita la città nei prossimi anni. E quindi questo è un impegno molto bello per tutti i consiglieri comunali e quindi avremo il nostro bel da fare. Io ringrazio per essere state con noi quest'oggi, in questa giornata molto particolare, con argomenti diametralmente opposti. Da un lato il maltempo e la cronaca di cui ci stiamo occupando ormai da ieri e di cui purtroppo probabilmente dovremo occuparci anche nei prossimi giorni e poi ovviamente alle porte di una ricorrenza come quella della festa della donna non potevamo che parlare con due donne, di donne. Quindi ringrazio Caterina Biti, presidente del Consiglio Comunale di Firenze, ringrazio Serena Pinzani, giornalista del Caporedatrice del Galletto e il giornale del Mugiale della Val di Sieve. Io ringrazio voi invece per averci seguito ancora una volta in questa nuova puntata di Malacoda che vi dà appuntamento come sempre e come di consueto per lunedì prossimo alle 19. Io vi ricordo che lunedì prossimo tornerà l'appuntamento anche in diretta con Studio Tg alle 12.30 e poi una serata tutta dedicata allo sport. Buon fine settimana. Buon fine settimana. Buon fine settimana.